Vicepresidente Gubitosa, la ringrazio nuovamente per aver accettato il nostro invito. Però vorrei che commentasse queste immagini, perché secondo me sono immagini fortissime, sono immagini che parlano da sole. Ci sono donne e bambini in coda per ore per prendere una tanica di acqua. Donne e bambini che non hanno un materasso per dormire, non hanno coperte, non hanno cibo. Allora le rifaccio anche lei la solita domanda. Che razza di accoglienza è? È qualcosa di disumano. È disumano, questa non è accoglienza, le immagini sono terribili. E sui migranti, dottore, cosa sta accadendo? Sta accadendo che la propaganda della Meloni, che ha utilizzato sia in campagna elettorale che dai banchi dell'opposizione, si è andata a schiantare contro la realtà. Vi ricordate tutti del blocco navale che gridava la Meloni dall'opposizione non li faremo arrivare, metteremo le navi militari, non arriveranno. Ecco, il risultato è questo. Il risultato è 26.000 sbarchi con il governo Meloni. Si sono in verde gli sbarchi della Meloni e gli altri colori sono dei governi precedenti. Mi faccio completare, mi faccio completare. Ora arrivo Pignami, mi faccio sentire un attimo, poi vengo da lei Pignami. Ecco il blocco navale della Meloni. 26.000 sbarchi, quattruplicati i migranti che sono arrivati rispetto al governo Conte. Quindi, cosa è successo? È successo che questa è la realtà. La Meloni non riesce a fermare i migranti. Quello che ha fatto è stata propaganda e la cosa più grave è accaduta al Consiglio Europeo. La Meloni è andata al Consiglio Europeo e quando è tornata ha anche annunciato un grande successo sui migranti, dicendo che aveva risolto il problema dei migranti. La realtà è che invece ha nascosto un grande flop, perché di migranti a questo Consiglio Europeo non si è parlato solo nelle conclusioni, tre righe in cui hanno detto se ne parlerà a luglio, al prossimo Consiglio Europeo. Ebbene la Meloni va in Europa col cappello in mano perché non sa come fermare i migranti, non sa come non farà accadere quelle immagini, non ne parlano proprio, però arriva in Italia dicendo che ce l'abbiamo fatta. In realtà se ne parlerà a luglio e noi ci auguriamo che si trovi una soluzione. Qual è la soluzione? Mi taccio. La soluzione è quella che aveva avviato Conte. Va rimpatriato chi non ha diritto, quindi i rimpatri via chi non ha diritto, e chi invece ha diritto vanno ridistribuiti in Europa, superando il patto di Dublino, e quindi vanno ridistribuiti in Europa. Ovviamente perché la Meloni non lo fa? Perché Orban e compagnia, i suoi amici non vogliono, ma la Meloni deve fare gli interessi degli italiani, non di Orban. Quindi andassi in Europa a far rispettare gli italiani. Aspetti, aspetti, non andiamo su... Gubitosa, questa simpatica ragazza che mostra il dito medio al ministro degli interni Salvini, tra l'altro quel ministro degli interni Salvini era al governo con il suo presidente Conte, mi ricorda, dicevo, parecchio Carola Rachete. E mi rifaccio le parole però del vice ministro. Cioè, pretendono di fare il bello e il cattivo tempo. E non mi pare normale che uno venga e faccia il bello e il cattivo tempo. Se ci sono delle regole da rispettare, le regole si rispettano. Non è che se sei al timone di una ONG fai il cavolo che ti pare, o no? Dottore, sto per dire una cosa scontata, però la voglio comunque chiarire. È normale che le leggi in Italia si rispettano. Tra l'altro io sono un parlamentare della Repubblica del Movimento 5 Stelle. Quindi per noi la legge si rispetta. Il governo va rispettato, quindi non si accettano gesti ai ministri del governo italiano di questo genere. Dopodiché io invece da parlamentare di opposizione sono contro la linea del governo. Ma questo non significa che la legge non si rispetta, che ognuno fa quello che vuole e poi ci si lamenta perché se non si rispetta la legge ovviamente i giudici fanno gli interventi. Perché c'è chi dà ragione alle ONG allora? Perché c'è qualcuno che dà ragione alle ONG che fanno quello che vogliono in mare aperto? Guardi, io le posso dire una cosa. Io da parlamentare del Movimento 5 Stelle le dico che nessuno può fare quello che vuole. Perché la legge si rispetta sempre. Quindi la legge non si deve infrangere. Dopodiché però entriamo nel merito della problematica se posso. Qui quindi il problema è che abbiamo capito che la linea del blocco navale che anche l'ammiraglio consigliava quindi di mettere le navi militari e non farli arrivare è una linea che la Meloni pensava di poter adottare e oggi non sta adottando. Ora chiediamola a lei perché ha cambiato idea. Noi già non eravamo d'accordo per il blocco navale. La nostra linea invece, mentre la Meloni diceva blocco navale, le navi militari non li facciamo arrivare era quella di parlare con l'Europa. Conte lo ha fatto nel 2018, Conte, in maniera informale riuscì a fare un accordo dove altri presidenti e altri stati d'Europa in maniera volontaria si ridistribuivano i migranti. Quello era un inizio che poi però andava seguito e fatto diventare strutturale. Nel 2018 è stato un inizio della ridistribuzione dei migranti. Però c'era la politica dei porti chiusi, Gubitosa. C'era la politica dei porti chiusi, Costantini, Gubitosa. Io c'ero e assistevo alle telefonate di Conte quando a Salvini diceva concentrati sui rimpatri, non hai fatto un rimpatrio, devi rimpatriare chi non ha diritto. Ma cosa stai dicendo? Fammi finire Bignami, tu non c'eri, fammi finire. Rimpatri e Salvini anziché fare i rimpatri, e su questo non lavorava e Conte lo richiamava tutti i giorni, cosa faceva? Show. Quelli che ha iniziato a fare anche la Meloni all'inizio di questa legislatura. Fermava le navi ai bordi dei nostri mari, con centinaia di persone a bordo, e poi con una scusa o con un'altra li faceva sbarcare tutti. Noi le dicevamo sempre a Salvini, questa linea non serve. La linea da seguire è ridistribuzione dei migranti in tutta Europa, quindi va superato Dublino, e quell'accordo informale doveva diventare strutturale. Addirittura, le do anche una notizia, io non ne sento parlare mai, Conte riuscì a convincere alcuni paesi d'Europa a mettere sotto infrazione chi non partecipava alla distribuzione volontaria, quindi comunque a creare una penalizzazione. Chi erano questi paesi? Che mi interessa, Cubitosa. Guardi, tutte queste cose, dottore, mi faccio completare, tutte queste cose non sono andate in porto perché purtroppo, uno, io le posso dire chi c'era contro, quindi Orban e compagnia sempre contro, e quindi consigliamo alla Meloni di partire con vincendo loro, due, non ci dimentichiamo che non solo è caduto il Conte 1, ma durante il Conte 2 è arrivata la pandemia, quindi tutto questo qui è stato sono meno speso. Poi scusi, Cubitosa, chiamasse Salvini per dirgli che doveva occuparsi dei migranti, oggettivamente mi perdonerà, ma a me fa molto sorridere questa cosa qui. Guardi, no, dottore, guardi, forse non è arrivata la voce, forse non mi ha sentito, ho detto, ho detto, chiamava per i rimpatri, sollecitava i rimpatri perché non faceva rimpatri Salvini, non faceva rimpatri Salvini, ma lei due mesi fa dove era? Non faceva i rimpatri, chiamava per i rimpatri? La Francia, Marsiglia, tre mesi fa, lei dove era? Sa di cosa parliamo? La risistribuzione, ma di cosa parla? E come ne vogliamo uscire con il blocco navale della Meloni? Perché non lo fa allora? Allora perché non lo fa? Perché non fa il blocco navale? Se la soluzione è quella che esisce lei, non devono arrivare, perché non lo fa? Vada, Vignami, 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 vada, ti dobbiamo fare il blocco navale. Onorevole Gubitosa, le devo giustamente una replica e le lascio anche la chiusura. A lei, ho 30 secondi però. Le confermo che l'unica strada è superare il trattato di Dublino e ridistribuire i migranti in tutta Europa. Dopodiché l'ammiraglio ha detto che con Conte non ci sono state ridistribuzioni in Europa. Il vice ministro Vignami ha detto che ci sono state poche malea elencate. Confermo che ha ragione il vice ministro. Conte è riuscito a ridistribuire in maniera volontaria in tutta Europa dei migranti. La strada è rendere strutturale la ridistribuzione in Europa dei migranti e rimpatriare chi non ha diritto. Questa è la linea del Movimento 5 Stelle. Grazie al vice presidente. Grazie mille al vice presidente Michele Gubitosa.